Ciao, benvenuti a Cazzeggio Cartabiotrico Ciao, in questo episodio di Cazzeggio Cartabiotrico parleremo di racconti e romanzi di fantascienza da scaricare gratis in pdf coperti da copyleft e tanti videogiochi da scaricare gratis in quanto coperti da licenza creative common Allora, nel link che trovate in descrizione se volete sarete portati ad una pagina web del mio blog Mia Fantascienza è la breve pagina web dove recensisco rapidamente le comunità dove ho parcheggiato i miei file in pdf e dove potete andare a scaricarli su Calameo, su Issue, su FreeUdo, su Scrib e anche su Jumag su alcune comunità, come ad esempio Jumag non troverete proprio tutti i file perché lo spazio hosting gratuito è limitato ed ho dovuto appare solo alcuni ebook trascurandole chiaramente altri detto questo, poche righe poche parole cercherò quindi di presentare le varie linee di ebook di fantascienza che ho prodotto c'è la collana ebook Mia Fantascienza che nella raccolta della playlist Cazzeggio Catabiotrico trovate una serie di ebook trailer riguardanti la lettura del primo capitolo di questa saga di fantascienza che racchiude testi in multitrama oppure in formato classico e lineare sono tutti i testi presenti nella playlist ebook trailer Mia Fantascienza che potete trovare linkata sul mio sito poi c'è la collana ebook J-Dub che sta per Joint Direct Attack Book sono un insieme di ebook, pdf, lineari o multitrama che sono omaggi ad Amazing Stories, Wonder Stories If Words of Shame Fiction i testi con il logo J-Dub che potete rintracciare rapidamente nel mio blog andando a cliccare sull'etichetta J-Dub sono tutti remake o plot remix o plot porting in multitrama oppure un plot remastering racconti di fantascienza a mio gusto personale che hanno meritato di essere rivisitati oppure essere riproposti la presentazione ovviamente dell'ebook è presente anche nella collana nella collana di playlist di fantascienza intitolata Shifi ebook J-Dub che trovate chiaramente sempre linkata sul mio sito e anche sul canale Youtube c'è poi infine la collana Climate Fiction un insieme di testi che narrano la saga delle guerre puniche due e terza guerra mondiale da diverse prospettive spazio-temporali gli ebook illustrano il dramma del cambiamento climatico e delle climate change words sulla Terra intorno al 2050 per maggiori dettagli sulla collana vi invito a visitare l'indirizzo www.climatefiction.gq nella presentazione degli ebook sulle climate change words è disponibile anche tutti i file contenuti nella playlist di ebook di Climate Fiction se invece andrete a cliccare sul tag Fan Station oppure sul banner Fan Station che trovate in fondo alla prima pagina alle prime pagine del mio blog Mia Fantascienza sarete catacultati nella lista di tutte le recensioni che ho fatto fino adesso di videogiochi gratuiti coperti da copyleft che è possibile scaricare gratuitamente e giocarli ciao Grazie a tutti